Ciao a tutti, noi siamo i Crostini d'Avena! Ciao a tutti, io sono Lorenzo, chitarrista pianolista, e sottolineo pianolista La band nasce circa un anno, un anno e mezzo fa da un'idea mia e del bassista Marco In una notte buia e tempestosa ci siamo ritrovati in un locale a mettere su tavolo quello che poteva essere il progetto Abbiamo cercato di dettare quelle che sono le linee guida della band, quello che volevamo fare, quello che non volevamo fare Ciao, sono Alessandro e suono la batteria nei Crostini d'Avena, soprattutto anche sudo dietro la batteria nei Crostini d'Avena E sono vestito da batted, anche se in borghese per oggi, ciao! Normalmente noi cerchiamo di trovare le fiere che possano ospitare un nostro concerto E anche fiere in cui la gente è contenta di sentire appunto le sigle sia più che meno conosciute Ciao a tutti, io sono Maria e quando non combatto sulle rive della Senna per la libertà francese Canto con i Crostini d'Avena, sono la voce femminile principale Dirò che suono la chitarra acustica e canto nel coro della parrocchia, la coradella a San Marcello, paese di 2000 abitanti Ciao a tutti! Per il momento abbiamo fatto un paio di fiere a Falconara di Falcomics l'anno scorso Che poi è stato anche il nostro battesimo del fuoco Forse ci sarà qualcosa in programma sempre nelle fiere limitrofe alla nostra città Noi siamo di Iesi in provincia d'Ancona E per quanto riguarda CD sinceramente è solamente qualche demo di presentazione per locali O comunque per chi ha piacere di sentirci anche nello stereo di casa Abbiamo molto materiale che potete visionare su Facebook Potete trovare tutti i video che volete, tutti i contatti che volete, tutte le canzoni che volete Non esitate, facebook.com slash Crostini d'Avena E non dimenticate che chi non ha il coraggio non può sfidare il cielo come noi La targhetta della vincita Primo posto del San Marino Comics Grazie, grazie, grazie Siamo venuti qui oggi a San Marino Comics Per partecipare al contest e la gara tra band Abbiamo suonato alle 11 e mezza della mattina sotto il sole Era molto caldo, giusto? Era molto caldo Quindi ci siamo un po' bruciacchiati Però è stata un'esperienza perché mai era successo di suonare e cantare la mattina Ciao a tutti, io sono Ruben, chitarrista e cantante dei Crostini d'Avena Abbiamo potuto incontrare, mentre smontavamo tutta la nostra attrezzatura I fantabaghi che erano la band che avrebbe suonato alle 3 pomeriggio dopo di noi Abbiamo potuto stringere anche un legame d'amicizia perché questo gruppo è molto simpatico Noi abbiamo dato qualcosa a loro e loro hanno dato qualcosa a noi fondamentalmente Sì, quindi abbiamo potuto stringere un legame con i fantabaghi E visto che alla fine la giuria ha decretato noi come vincitori Abbiamo pensato di invitarli sul palco di questo pomeriggio per la finale Ed è stata una bella collaborazione Ciao, sono Marco e quando non vesto le sacre vestigia di Pegasus Suono il basso e faccio le voci stupide con il vocoder nei Crostini d'Avena Ciao Arrivederci al prossimo live dai Crostini d'Avena Viva San Marino Comics Ciao a tutti Passo la parola a Maria Che voglio dire, sei un po' imbaracciante, posso dirlo?